quando mi hanno portato scudo da provare ero abbastanza scettico dal momento che ormai avevo provato parecchi sistemi diciamo per ridurre quello che poteva essere la contaminazione schemi protettivi di tutto ma devo dire che sono mai due mesi che lo uso ed è veramente incredibile neanche una gocciolina arriva da me e di conseguenza credo che neanche goccioline possono arrivare dal paziente noi lavoriamo sempre protetti comunque naturalmente non abbiamo passato la guardia ma devo dire che scudo si è dimostrato clinicamente veramente molto utile per cui mi sento veramente di suggerire ai colleghi la prova perlomeno di questo questa nuova attrezzatura che nella sua semplicità al mio avviso trova una grande efficienza per cui cosa posso dire continuerò sicuramente ad usarlo